Agricoltori in ginocchio per i continui danni alle produzioni e inoltre anche tartassati da bollette per servizi mai ricevuti. Una situazione insostenibile che ha visto in queste ore anche la dura presa di posizione del presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, già in visita in provincia di Ragusa proprio durante l'ultima grave alluvione dello scorso 26 ottobre. Agli agricoltori non si può chiedere di tirare fuori i quadrini per servizi mai ricevuti o dopo annate disastrose, ha affermato Musumeci che continua a bloccare i pagamenti dei ruoli del consorzio di bonifica diventa una necessità non più rinviabile. Non usa mezze parole il governatore della Sicilia dopo la emissione dei ruoli degli ultimi quattro anni da parte del consorzio di bonifica della Sicilia orientale ed occidentale. Bisogna trovare una soluzione ragionevole che consenta agli agricoltori di avere un po' di ossigeno e al tempo stesso garantire alle strutture consortili la prosecuzione dell'attività ordinaria. Intanto giornata di incontri, quella di oggi a Palermo. Nel primo pomeriggio a Palazzo d'Orleans, tra l'assessore regionale, l'agricoltura e di bandiera, i dirigenti del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale e le organizzazioni di categoria. A seguire il summit con i vertici del consorzio e la commissione attività produttive dell'ARS, bisogna adottare, spiega il governatore Musumeci, una soluzione che non si rilevi come nel recente passato, peggiore del male. Serve un disegno di legge agile, di poche righe, che può essere approvato in alcune settimane. Sia chiaro che, a mio parere, la soluzione dell'eterno problema dei consorsi di bonifica in Sicilia sta nella legge di riforma proposta dal mio governo e ora all'esame delle commissioni di merito. Ma intanto, conclude Musumeci, occorre affrontare l'emergenza e dare un minimo di respiro ai tartassati imprenditori agricoli. Infine, sulla questione, anche il deputato Ibleo, Razio Ragusa, che manifesta la propria immediata disponibilità al governatore Musumeci per l'individuazione di una soluzione che consente di trovare una strada ragionevole dopo che saranno bloccati i pagamenti dei ruoli del consorzio di bonifica. Mi sembra, afferma Ragusa, che la roadmap tracciata dal governatore tesa a individuare una soluzione ragionevole che consenta agli agricoltori di avere un poco di ossigeno e, al tempo stesso, di garantire alle strutture consortili la prosecuzione dell'attività ordinaria sia la strada migliore che si possa percorrere. Ribadisco, dunque, conclude Ragusa, la mia disponibilità e quella dei componenti della terza commissione all'Ars affinché possa essere adottata una soluzione che consenta di affrontare l'emergenza garantendo un minimo di respiro ai tartassati imprenditori agricoli.